Buongiorno cucciolini e cuccioline, ciao Aria! Allora, Aria, come, come with us! Cucciolini, come oggi? What? Cucciolini, come oggi? Ah, Crudino! Allora, cucciolini, cosa facciamo oggi? Assaggiamo che cosa? La cioccolatini di Ingrid. Oggi assaggiamo i cioccolatini che Aria. Guardate, ci stiamo facendo! Siete bellissime! Sì, anche voi due avete lo stesso costume e Anastasia e Aria hanno lo stesso costume. Aria, vai a prendere i cioccolatini. Hai cambiato i cioccolati. Vai, fate con lei. Date! Ok, allora, questa sera abbiamo deciso di fare il bagno alle 3 di notte in piscina. Siete cariche? Siete pronte? Sì. Siete sicure? Siete sicure di volerlo fare? Ma anche alle 3 di notte quando ce l'ho la... la mostre. I mostri alle 3 di notte ci sono. Anche qui! Come ti chiami la ghost? The ghost, i fantasmi. Sì. Oh, fammi vedere Aria! Questo è il quale cosa? Oh, questo ti chiama... Questi? Un cioccolato, ma... Questi? Come una flake. Buono, con i cornflake. Sì. Questo è un cioccolato con i cornflakes? Cereal? No, questi, questi sono con i cornflakes. Sono un cioccolato. Sì, Rioletti. Leggi. Ah, ok. vuoi assaggiare i cioccolatini con noi? Ok, vai Aria. Date una sedia ad Aria, fate sedere anche Aria. Aria qua. E tu? Sei con lei? Ah, ok. Dove va Aria? Aria vuole farci un cocktail. Aria vuole farci un cocktail. Ma non va. Aspetta. Aria, come! Cioccolato! No, aspetta, aspetta. No, aspetta. A mia bocca è come mezza. A tua bocca? La cicca. Hai mangiato la cicca e quindi? Ok. 1, 2, 1. Come sono? Può vedere cosa c'è? Buoni! Adesso li assaggio anch'io. Buoni? Buoni! Buoni, Aria? Sì? Sì. Voi li conoscete già, immagino, vero, questi cioccolatini? Mmm, Isabella, dalla tua faccia ne vorrei uno, grazie. Subito, immediatamente anche. Ok, grazie. Aria, assaggio anch'io? Mmm, buono. Un po' farinoso, però è buono, buonissimo. Mmm. Ok, assaggiamo gli altri. Adesso assaggiamo questi. Questo è tutto cioccolato? Sì, non c'è niente. Only cioccolato. Ok. Mmm, buonissimi. No, no, no. Avevo proprio voglia di cioccolato. E tanto che non mangio cioccolato e basta. Uh! 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 Come è? Aspettiamo il bottone. È un bottone. Ah, sì, ti chiami cioccolato. Bottone di cioccolato. Bottone di cioccolato. Vieni, Aria! Aria, come! Aria, come! Ok. Stai! Mangiamo il bottone! Cioccolato di bottone. Ok, 3, 2, 1. Mmm! Buoni? Buon! Ok! Come siamo? Anch'io, anch'io, anch'io! We powiedz we! We! assaggiamo il bottone di cioccolato buonissimo questo è buonissimo è più buono di quello di prima questo è crunchy vero? con dentro forse dei cornflakes vediamo bello buonissimi 3,2,1 assaggiamo l'ultimo cioccolatino crunchy con i cornflakes buonissimo 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 i cioccolatini sono finiti li abbiamo provati tutti votiamoli però votiamoli dai io ho questo qua gli do 1,9 9 questo è 10,9 veramente e questo qua è un'8,5 un'8,5 ok ok Isabella questi mi piace tanto questo è un 10 3,10 ok questo 7 ok mi piace tanto ma è buono e questo un'8 un'8 perché è solo cioccolato perché è solo cioccolato non c'è tanto esatto ognuno ha i suoi gusti Anastasia allora allora a me per me questo gli do 8 ok a questo gli do 6 perché non è che era tanto buono no magari 7 beh ognuno ha i suoi gusti amore se per te è un 6 è un 6 è un 7 è un 7 e per te e sto gli do 10 si sono piaciuti di più che sono puri solo cioccolato vero? bambine adesso facciamo una pausa poi andiamo a cena e ci vediamo stasera con il bagno in piscina alle 3 di notte 3 di notte attenzione ai fantasmi sei pronta Anastasia? non è che poi hai paura piangi vedi cose strane no ok a dopo allora ciao ciao ah ma aspettate un attimo è arrivata la zia Samantha la mamma di Isabella e Aria che voleva anche lei votare i cioccolatini tutti e tre? si si se ti vanno si ok ve la ricordate la zia Samantha? buono a te piace? ok perché c'è l'aria dentro c'è aria dentro perfetto ecco perché aria non c'è più è finita nel cioccolatino no ma è qua Aria ciao Aria ok Samantha sa già croccante si beh tu li conosci già ovviamente buono buono è il mio preferito ecco qui è buono il cioccolato normale si c'è chi piace semplice ciao ciao amore ok grazie per la tua testimonianza ma allora cuccioline e cuccioline facciamo un sondaggio scrivete nei commenti se secondo voi la zia Samantha ed io perché siamo sorelle ci assomigliamo sì no pochino per niente ok bimbe siamo appena tornate da cena Isabella e Vanessa sono già uscite con il costume le furbette mentre Anastasia e Aria devono ancora indossare il costume Aria wear dress e wear costume come si dice costume? costume costume quindi ascoltate non facciamo troppo caos andate a mettere il costume Anastasia e Aria e ci vediamo in piscina ok tutti insieme siete contente? sì troppo speriamo che l'acqua non sia troppo 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 fredda attenzione perché a quest'ora vado a toccare c'è il gatto era qua amore com'è l'acqua? normale bene non è troppo fredda provo anch'io ragazzi perché non mi fido ma è fresca comunque ok sì allora bambine visto che in tantissimi Isabella ci hanno chiesto di essere salutate anche da te da Aria ma veramente veramente in tanti salutiamo già adesso così non ci dimentichiamo chi sono? Miriam Miriam Silvia e Anna ok ciao saluto Sticci bravo amore ok andate a mettere il costumino ah volevo dirvi una cosa dicono c'è una leggenda che narra che di notte ci sono i fantasmi in piscina stiamo dicendo a night quando è in the night time c'è monstri e fairy e ghost strange people ok ok andate a mettere il costumino ok allora anche Anna sa guarda vieni io e Isa abbiamo le trecine qua uguali è vero ma amico avete fatte le trecine uguali bellissime bellissime amore ma le sono tutte le bellissime ok dai cominciamo a entrare in acqua Isabella è freddo Isabella oh Aria è super attiva invece ha già messo il gonfiabile dove siete? io sono a parte di piedi come sai? ma ho i piedi ok ognuno di voi lava i piedini alla storia la prima a entrare sei tu allora non dobbiamo cadere dal gonfiabile allora non dovete cadere dal gonfiabile questa non la sapevo non ti lanciare che ci sono io e mi bagni io aria è in quello poi dai il braccio danni il braccio danni il braccio ma cosa c'è? danni il braccio cosa? dai i piedi i piedi i piedi grazie oh oddio ragazzi vediamo ragazzi Vanessa dice che c'è un tafano in acqua vero ma? potrebbe essere sì vai vai sei attenta eh non farti pungere è sotto il gommino sposta quello sotto il gonfiabile non c'è più l'abbiamo perso ah ce l'ha attaccato eccolo qua oddio ma sei sicura? non nego ma secondo me non è un tafano secondo me è un pezzo di erba ma ne puoi? ecco ce l'hai lì tiralo 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 fuori uccidilo Vanessa schiaccialo col piede eccolo ho preso fatto fatto bravissima ok vai Isabella aspetta i miei piedi non è fredda? aria e Anastasia sono già sul gonfiabile tutte e due sullo stesso gonfiabile ma da quello che ho capito c'è una sfida in atto il primo sono paura perché c'è il fantasma c'è il fantasma Isabella non avere paura ci sono io ok che ti proteggo allora Isabella e Vanessa da quello che ho capito ah non è fredda eh Anastasia Anastasia fai parlare anche me non urlare troppo altrimenti arriva il fantasma vieni vieni vediamo se anche Isabella e Vanessa riescono a sopravvivere sul gonfiabile senza cadere non dovete cadere bravissima ok allora fatemi sapere intanto com'è l'acqua ma non è caldo ma non è freddo quindi è piacevole è un pochino fresca qua c'è qualche bimbo c'è qualche bimbo fuori dall'acqua cosa è successo? Vanessa allora in questo momento Vanessa e Isabella stanno vincendo eh perché sono eh ma prima è fuori dall'acqua qualcuno di voi vorrebbe un gelato? sì davvero? io wow non lo so abbiamo i cornetti fammi vedere quali ci sono poi dimmi quali ci sono vado a vedere volete il gelato voi? sì Anastasia vuoi il gelato? sì sì il gelato ok allora vado a guardare quali gelati ci sono ok? vabbiamo fatele brave portano asciugamano se ci dobbiamo asciugare le mani io ho portato questi due cornetto e due biscottini va bene? ok lo so anch'io biscottino ah ok cornetto Isabella? sì grazie prego no biscottino Aria do you want cornetto? sì ti piace? vi vai cornetto? sì prendi cornetto un asciugamano com'è Vane? buono avevi voglia di gelato? eh? sì anche tu? amore com'è il gelatino? buono? è buono Aria? sì dai 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 che abbiamo un'altra sfida da fare allora chi ha finito il gelato? solo Anastasia Anastasia io perché era piccolino chi è che il gelato è piccolino? Vanessa no amore basta basta gelato è tardissimo eh io non sto giocando ho sentito un rumore ho sentito un rumore come ogni acqua di là di là? mmm devo andare a controllare? eh sì volete che vado a controllare? sì ok ok dai se urlo venite in soccorso eh però ho più paura vai via vai 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 ok ragazzi tutto a posto eh tutto ok è sicura? eh sì mi sembra di sì ok? ok va bene dove stai andando? in bagno devi andare in bagno? ok vai si va bene ti riusci il gelato eh? sì ok ok Isabella è andata in bagno l'aspettiamo così poi procediamo con la challenge ok? ok ragazze ma Isabella quanto tempo ci sta mettendo a tornare? non è che sta mettendo ragazzi scusate 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 io ho scusate un attimo bimbe non devo fare un attimo una cosa devo andare a vedere una cosa arrivo subito eh ok ma che cosa succede? ma no niente volevo capire qua se la piscina stesse perdendo acqua ok ok no tutto a posto ok mi sembrava di aver visto un'ombra un personaggio che è spuntato fuori dietro la piscina ma non ho ben capito di chi si trattasse se avete visto qualcosa per favore scrivetemelo nei commenti ok? sono un po' spaventata ma spero che sia tardi e che sia molto stanca e che io abbia visto questa ombra solo perché sono molto stanca scrivetemi nei commenti se avete visto qualcosa anche voi e che cosa? mamma tutto ok? si si tutto ok sono andata un attimo a vedere se perdeva la piscina perché mi sembrava di aver visto che usciva dell'acqua dalla piscina comunque tutto ok ma Isabella non arriva più Isabella ma speriamo che Isabella non stia male perché a questo punto mi viene da pensare che non si ah Isa ciao tutto ok? si perché? mi hai fatto uno scherzo per caso? no? scherzo? no? no? di questo? no così? niente non ti preoccupare dai ragazze che dobbiamo fare la challenge dobbiamo fare la challenge ok Isabella dai sali sul gonfiabile ok la prossima è la lotta ok facciamo la lotta non riesce Isabella a salire no you turn into us and we turn into you Isabella you turn into us and we turn into you ok riusciamo? no no ti faccio salire prima te ok ok ma lollipop ok ok adesso dovete riuscire ad allontanarvi ok 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 così ok va bene Aria e Anastasia avete vinto la challenge yeah uh avete vinto la challenge ma ragazzi guardate che c'è uscite uscite piano 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 Samantha aiuta ci aiuta ci c'è qualcuno Samantha Isabella no Isabella no piano piano Isabella non cascare non scivolare oddio ma chi è via 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 chi l'asciugamano via 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 ok ragazze come io non lo so io prima Isabella Isabella quando tu eri in bagno ho visto questa immagine questa faccia questa no e credevo che eri tu che ci facevi uno scherzo ma io è in bagno adesso l'ho capito davvero ma non so più chi è no 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 che è oh my god oh mio dio ma chi è allora qua ci sono tanti gatti randaggi ma scimmie randaggi non ne avevo mai viste si 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 adesso dai ok asciugatevi asciugatevi andiamo dentro andiamo dentro chiamiamo i carabinieri dai 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 via 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 scappa dentro 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 spegni 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 vogliamo andare in camera andiamo in camera che qua fa freddo venite venite sami sami vieni chiudi chiudi tutto chiudi tutto con la chiave oh my god Marietta ma chi è ma chi è chi è non lo so Isabella non lo so non sono sono qua da due mesi non mi è mai successo non ho mai visto forse perché quando si fa il bagno a mezzanotte avevo sentito dire che da queste parti c'è narra una leggenda che spuntano all'improvviso queste facce strane si no no aspetta che chiudo chiudo chiudiamo tutto quando dormi quando dormi subito una doccia e andare via si ragazzi ce ne andiamo Ani andiamo e andare via sei spaventato andiamo a casa ma in quale casa andiamo noi non ho un'altra casa la vara ah no vara chi è mi ha fatto paura perché chi è cosa è successo si è aperta la porta si oh Ani attenta Vane chiudi la chiave chiudi la chiave chiudi la chiave scusa ok no 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 ok ma voi cosa avete visto in particolare a me sembrava una scimmia anche a te anche a te aria sim a monkey a monkey a monkey man infatti un uomo scimmia ha ragione oddio questa è un'altra maledizione la maledizione della porta che non si chiude no no perché ho fatto questo oh sei sempre chiusa cosa è perché eh i nostri papà non ci sono no infatti sono andati lì a mangiare in quelli ma noi siamo andati con loro però loro sono andati poi in centro a fare un giro si noi cosa ho detto è vero ci sono i mostri di notte ci sono i mostri di notte ma le mie azone ci sono i mostri secondo me ma io non lo sapevo però mi ho sentito parlare scimmietta hai preso mio papà e tuo papà perché non c'è beh loro sono andati in centro a fare una passeggia no come se qualcuno lo sovano ascolta io me la sto facendo addosso no no se ti dà tipo no non so ho capito e se gli diamo una banana magari se ne va una banana ma non ne ho banane però oggi non le abbiamo comprate no vabbè no 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 dai no no ah no no se gli diamo una banana no dai no non credo secondo me se gli diamo una banana lui torna poi perché se gli diamo da mangiare torna quindi è meglio non dargli niente perché noi abbiamo dato il cibo al gatto appunto noi abbiamo dato il cibo al gatto e il gatto è tornato però noi i banane non ne abbiamo mai date a nessuno quindi non vedo perché questa scimmia non so non diamo i banane perché altrimenti torna di quel video che avevamo fatto a nuova a nuova era forse avevamo fatto un video c'era lo scimpanzè si oddio non è che è lui era tutto nero no aria stai tranquilla amore stai tranquilla non ti preoccupare era tutto nero sì belosissimo si gli avevamo dato anche la banana si gli avevamo dato la banana ma secondo te manchi banana però poi manchi banana sì secondo io questo cignetta è la fantasma di villa d'anessa di villa d'anessa la nostra villa e noi non lo sapevamo l'abbiamo scoperto stasera questo è il figlio di quello che avevamo visto strada novara non lo so si vane tranquilla amore non ti preoccupare adesso gli chiamo allora facciamo una cosa ragazze chiudiamo il video qua ok perché cioè io sinceramente devo uscire a controllare perché è comunque casa mia e devo capire che cosa sta succedendo chiamiamo nel frattempo zia samanta zia samanta chiama i carabinieri eh chiama i carabinieri zia samanta è coraggiosa più coraggiosa è mia sorella ma siamo diverse se lei è più coraggiosa di me no aspetta prima di uscire guardo anche quella finestra lì mi preoccupa un po' io ho visto qualcuno no dai ti prego vanessa stai calma ok stai calma salutiamo ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao andiamo perché c'è qualcuno sì dobbiamo dobbiamo oh sorry nonno apriamo la porta chiamiamo i carabinieri e lasciamolo con la finestra ok va bene ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.